Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 17 agosto 2022 e torniamo con la nostra rassegna stampa dopo una piccola vacanza di tre giorni conseguente al ferragosto, ferragosto i giornalisti non hanno lavorato quindi ieri i giornali non c'erano poi il giorno prima era domenica quindi tre giorni di silenzio stampa per quanto riguarda la nostra rassegna ma oggi i giornali sono tornati regolarmente in edicola e di notizie ce ne sono tantissime e quindi noi cominciamo subito ma cominciamo la giornata con l'almanacco del giorno vediamo il santo, il santo del giorno, oggi si festeggia Santa Beatrice da Silva Santa Beatrice è una santa portoghese imparentata addirittura con la famiglia reale di quel paese la sua bellezza aveva presto attirato i nobili castigliani suscitando la gelosia della regina Isabella che pensate l'aveva rinchiusa per tre giorni in una cassa panca ebbene in quel caso aveva anche messo a rischio la sua vita liberata Beatrice si fece suora a Toledo dove fondò l'ordine della Immacolata Concezione fu proclamata santa nel 1976 da Paolo VI vediamo anche le previsioni del tempo vediamo come il sole è sorto questa mattina alle 6.12 e tramonterà alle 20.15 il tempo è sempre quello, non c'è una goccia d'acqua tempo stabile sulle marche con cielo sereno o al poco più nuvoloso temperature in lieve aumento, le massime fino a 34-35 gradi una grande calura, una grande siccità e i problemi per quanto riguarda la nostra agricoltura permangono ma noi apriamo il Corriere, no anzi apriamo oggi il resto del Carlino all'inizio e vediamo come il titolo di apertura è dedicata ad una innovazione che è stata introdotta dal comune di Fano proprio in questi giorni e sono apparsi in città i monopattini elettrici arrivano i monopattini e parte la polemica dall'altro ieri anche a Fano, anche Fano si è dotata di mezzi elettrici ma il Movimento 5 Stelle attacca il servizio è stato attivato in ritardo manca poco alla fine dell'estate ebbene dopo tre anni senza bike sharing è arrivato a conclusione questo disegno che è stato attivato dall'assessorato alla viabilità si ripristina il bike sharing mezzi elettrici per quanto riguarda le biciclette e monopattini elettrici per quanto riguarda appunto questa viabilità dolce ad occuparsi del servizio sarà la società californiana Beard che già opera a Pesaro questo significa che si può prendere il monopattino a Fano e lasciarlo a Pesaro addirittura e viceversa e fare una passeggiata lungo la pista ciclabile tra Fano e Pesaro magari quando il sole non è alto sull'orizzonte è veramente piacevole nei punti nevralgici della città saranno presenti anzi sono presenti circa 200 monopattini tra stazione ferroviaria, stazioni del bus mare, centro e parcheggi principali si è anche deciso ha precisato l'assessore Fabio Latonelli che la velocità consentita sarà ridotta di 20 km orari si dovrà andare molto molto piano infatti non si potrà superare i 6 km orari quasi una passeggiata a piedi ma senza fatica con una dolcezza per quanto riguarda la mobilità che non dovrà confliggere con il traffico cittadino il traffico normale l'articolo di fondopagina è dedicato al carnevale c'è un giudizio lusinghiero per le tre giornate che hanno caratterizzato questa manifestazione estiva in Sassonia due corsi mascherati molto affollati una domenica poi con iniziative di musica di gastronomia e di giochi di animazione per i bambini la Gian Marioli la presidente dell'ente manifestazioni fa il punto e guarda a febbraio perché febbraio ci sarà finalmente una nuova edizione canonica del carnevale con la sfilata dei grandi carri in Viale Gramsci e poi si parla della variante di Gimarra perché l'assessore alla urbanistica il vice sindaco Cristian Fanesi fa il punto sulla situazione ebbene dal comitato dal comitato per la salvaguardia della trave Arzilla e Gimarra era sorta l'eventualità che il nuovo tratto degli interquartieri fosse realizzato a Stralci così non sarà ha detto Fanesi perché l'amministrazione comunale intende realizzare l'opera interamente e in un unico stralcio funzionale come sempre detto e sempre indicato nelle votazioni di giunta e di consiglio comunale il comitato aveva paventato anche che i fondi non sarebbero stati sufficienti per commentare tutta l'opera e probabilmente la nuova interquartieri si sarebbe fermata davanti alla chiesa del Carmine così ribatte e le vice sindaco Fanesi non sarà perché l'opera sarà assegnata e completata integralmente appunto secondo l'amministratore e poi un fatto di cronaca evade per andare a Mirabilandia una pergolese di 43 anni finisce in carcere ha violato le disposizioni del giudice per andare al parco divertimenti di Mirabilandia per questo è stata arrestata una 43enne di pergola e così per andare a farsi un giro nelle montagne russe è finita dietro le sbarre insomma un'imprudenza che le è costata cara Bussi Navaria autista corre in salita e qui siamo a Mondavio a Mondavio in questi giorni si è celebrato la caccia al cinghiale una rievocazione una rievocazione del medioevo che è veramente suggestiva e attira tantissime persone e c'è un servizio di bus dal parcheggio che è fuori fuori il paese fino in centro ebbene uno di questi autisti che presta questo servizio si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale paura durante la manifestazione l'uomo aveva 74 anni alla guida della navetta il malore intervenuto poi il 118 ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Croce di Fano per via di accertamenti e a Durbino mentre a Mondavio si svolgeva la caccia al cinghiale a Durbino si festeggia la festa del Duca con un grande botto tantissime le presenze 20.000 quelle calcolate il presidente dell'ARS Francesca Crespini dice un risultato grazie a un lavoro lungo un anno ma i volontari non bastano più per fare bene ebbè questa è una cosa che si può ripercuotere in tutte le manifestazioni fatte dai volontari i volontari si impegnano fanno fanno crescere la qualità degli eventi poi quando questa è cresciuta talmente che il volontariato non basta più per reggerla ci vuole qualcosa di più e gli stessi volontari hanno tutte le caratteristiche le possibilità per diventare professionisti bisogna farli crescere perché sono già cresciuti in fatto di competenza ed impegno ancora sul giornale vediamo un ferragosto di confine ad Apecchio due regioni unite a tavola l'incontro degli amministratori di Apecchio e di Pietralunga dell'Umbria insomma due città confinanti che si sono uniti per organizzare gli eventi e soprattutto la gastronomia è quella che la fa da padrone vediamo anche le pagine pesaresi del resto del Carlino e siamo alla politica ebbene Maretta anzi direi burrasca all'interno del Partito Democratico per quanto riguarda la rivolta alle decisioni di Letta sulle candidature il PD dà tutti i posti sicuri al sud e Pesaro rischia di avere zero eletti sud e sud delle Marche Ricci decisivo sulla candidatura blindata della Scolano Curti è lui la grande sorpresa dell'ultima ora e si è sacrificata la Morani bufera in provincia la strada verso Roma è tutta in salita per i candidati pesaresi c'è anche Vimini ma in una posizione senza speranze ebbene neanche un parlamentare di centro-sinistra questo è il rischio che leggiamo sul resto del Carlino corre il PD in provincia di Pesaro Urbino e già soltanto la prospettiva è suo modo storica nei tre posti che garantiscono l'elezione sicura a parte un stravolgimento che non credo che si verifichi vanno Alberto Losacco che è commissario regionale al Senato che scusate che è commissario regionale del partito ed è capolista per quanto riguarda il listino del Senato e poi sicura anche l'elezione dovrebbero esserla della maceratese Irene Manzi capolista alla Camera e a sorpresa questa di Augusto Curti ex sindaco di Force che è un paese di 1.150 abitanti nell'Interland a Scolano e a questo punto quando Ricci sostiene la candidatura di Curti è esplosa la guerra interna al Partito Democratico con Alessia Morani che ha rifiutato la candidatura proposta in un collegio ovviamente da lei considerato perdente alle 19 di unedì l'ex deputata di Macerata Feltria era convinta di poter tornare in gioco in uno dei tre posti che garantiscono l'elezione così non è stato e quindi la decisione drastica della deputata e qui la vediamo con uno sguardo alquanto rattristato Morani guerra in chat fatta fuori da Ricci e poi l'annuncio dicono alla candidatura la deputata uscente attacca il sindaco ha lavorato per Curti e contro di me ha dichiarato lui però nega il sindaco nega scelta diletta che ha favorito la Manzi e Ricci ribalta la frittata attribuendola al segretario nazionale del Partito Democratico a metà giornata la decisione di rinunciare alla corsa per Roma il primo cittadino spero che ci ripensi per il bene del partito ha dichiarato Ricci ed ora passiamo al Ferragosto tutte le feste di Ferragosto tantissimi gli eventi che si sono organizzati in provincia in tutte le città Pesaro Fano Urbino Mondavio San Costanzo Mondof abbiamo visto tutte le iniziative di intrattenimento che ci sono state sotto monte a Pesaro i balli i balli si sono interrotti per poco tuffi e musica anche con l'acquazzone piccolo acquazzone che ha così inframmezzato la calura agostana poi quasi in 2000 per il concerto del pianista pesarese poi il gran finale alla palla con Matthew Lee e questo è stato veramente un'iniziativa molto partecipata vedete qui la gente che ha preso parte a questo concerto che lo vediamo Matthew Lee che suona il pianoforte con alle spalle la grande palla di pomodoro e qui un episodio di cronaca tenta di baciare una ragazza in treno e poi strattona il controllore ed è stato arrestato è un trentenne marocchino di Piacenza gli agenti di polizia lo hanno bloccato a fatica in stazione a Pesaro era a bordo dell'Intercity su cui viaggiava nel pomeriggio di lunedì scorso ebbene il treno è rimasto fermo sui binari della stazione Pesarese per oltre 30 minuti ebbene questo marocchino ha molestato una ragazza ventenne poco più tardi poi ha spintonato l'addetto al controllo dei biglietti e dato una manata alla capotreno che cercava di tranquillizzarlo per chiudere i conti ha insultato e cercato di sfuggire ai poliziotti che erano saliti sul convoglio dopo essere stati chiamati dal personale delle ferrovie ebbene gli costerà cara questa bravata perché gli è stato contestato il reato di interruzione di pubblico servizio perché il convoglio è rimasto fermo per mezz'ora e il tempo necessario per arrestare il trentenne e poi tra i capi di imputazione c'è anche la molestia in treno ai danni appunto della ragazza e qui vediamo un articolo edificante un articolo da leggere in tutti i sensi missione nell'orfanatrofio in Africa la vacanza di due ragazzi pesaresi e già fare la vacanza in un orfanatrofio in un orfanatrofio africano è un titolo di merito molto incomiabile si tratta di Giovanni Badioli di Matteo Pierpaoli studenti in medicina che sono andati in una poverissima città della Tanzania una situazione davvero difficile i bambini hanno una grande gioia di vivere e qui li vediamo hanno uno sguardo piuttosto triste a dire la verità però qua li vediamo sorridenti i bambini hanno una grande gioia di vivere ma manca loro tutto e quindi questi due ragazzi hanno attivato qui sono tre ragazzi uno due e tre in pochi giorni hanno attivato una raccolta di fondi in pochi giorni sono riusciti a guadagnare 3.000 euro l'obiettivo è di guadagnarne 5.000 però insomma la raccolta di fondi sta andando a buon fine e quindi è probabile che la cifra venga raggiunta addio al soprano Maria Parazzini cantò nei maggiori teatri del mondo nata a Monte Gridolfo nel 39 divenne famosa tra gli anni 70 e 90 aveva studiato al Conservatorio Rossini di Pesaro ed ora chiudiamo il resto delle Carlino diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico per evidenziare l'apertura che è un'apertura originale la vediamo qui su questa prima pagina la manutenzione mette il turbo in un mese quasi 200 interventi ebbene la manutenzione e la cura delle strade è una delle esigenze più sentite dai residenti dai cittadini fanesi i quali spesso protestano per le buche gli avvalamenti che si trovano nelle strade specialmente nelle vicinanze della loro abitazione da un mese circa la situazione sta cambiando perché l'appalto che è stato dato alla nuova dita sta funzionando e pensate in un mese sono stati più di 200 gli interventi il servizio esternalizzato funziona non solo decoro ma anche la sicurezza perché quando una strada è ben tenuta è anche una strada sicura la città dunque è più bella il cambiamento c'è e si vede migliora e si fanno più celeri gli interventi su richiesta dei cittadini e chiunque può rivolgersi per segnalare problemi nella propria viabilità per questo ci si può rivolgere al numero 0721 887 526 0721 887 526 oppure fare una segnalazione all'indirizzo email segnalazioni chiocciola comune punto fanno punto pu punto it per la promozione turistica filotto di incarichi ai privati tutti al di sotto dei canonici 40 mila euro accelerata anche sui carnevali storici un articolo di Andrea Maduzzi che fa un po' il sunto su tutti gli incarichi che l'amministrazione comunale ha attribuito si tratta di diversi aspetti che riguardano però tutto il turismo per esempio al Polar Star è stato dato ancora l'incarico di sviluppare il piano di comunicazione e marketing di Visit Fano e poi un altro incarico per la Fano Marinara e ancora un incarico attribuito allo studio Zaccone Guerra lo stesso che ha coniato il brand Fano per la fornitura del servizio di studio produzione grafica e stampa di materiale promozionale per la nostra città Valmetauro l'osteria di chef Zanchetti conquista la guida Michelin è il primo ristorante di Fossombrone a raggiungere questo prestigioso risultato e poi abbiamo invece qui a fondo pagina una lettera di Del Moro al Partito Democratico di Fano testa viva sensazione dice Del Moro la scelta del PT di localizzare il biodigestore a Barchi con questo si sottrae molti voti al Partito Democratico perché in quella zona è tutto un fiorire di proteste e quindi Vittorio Del Moro di Orciano invita il PD a cambiare strategia a cambiare visione andiamo anche a Frontone per andare verso la certificazione biologica del territorio gli ispettori sono intervenuti nei pascoli del Catria Ravaioli entro il 2024 oltre 500 ettari saranno convertiti e poi anche per quanto riguarda gli allevamenti veniamo anche a Senigallia a Senigallia vediamo come quattro coetanei sono stati presi abbastonate da due giovani che sono finiti in manette per rapina tutto è accaduto nei pressi del parcheggio di via Raffaello Sanzio la polizia ha bloccato un 19enne di Ancona e un 21enne di Falconara hanno fatto veramente da matti per derubare appunto questi giovani li hanno presi abbastonate avevano già dei precedenti questi due figuri e alla fine sono stati presi ed ora vediamo anche le pagine pesaresi del Corriere Adriatico la politica PD la spuntano Manzi e Curti Morani allora io non ci sto il titolo significativo della notizia che abbiamo già rilevato e in questa seconda pagina si emerge emerge l'ira di Alessia contro Matteo Alessia e Alessia Morani ti sei battuto per farmi fuori ha detto volano stracci nella chat nella chat al vetriolo dell'assemblea dem pesarese insomma questa diatriba interna al PD non fa altro che indebolire ulteriormente appunto la sinistra provinciale Ceriscioli capisco la Morani i passaggi sono stati personali e l'ex presidente della regione dice con Ricci siamo al buongiorno e a buonasera un aspetto molto molto formale e vediamo invece quello che si agita nel centro-destra una strada in discesa per Mirco Carloni Ciccioli invece vuole senato o giunta e il disastro del partito democratico sul collegio di Pesaro alla Camera favorisce il vicepresidente della regione ilfanese Mirco Carloni e il capogruppo dei fratelli d'Italia dato per papabile ovvero Carlo Ciccioli alla uninominale di Ancona cerca invece di cambiare Casella l'avere visto togliere dal piatto il nome di mister preferenze Andrea Biancani dato fino a l'ultimo come il favorito in quota dem per l'uninominale di Pesaro alla Camera non può che aver fatto piacere al vicepresidente della giunta regionale Mirco Carloni quasi sicuramente candidato in quello stesso collegio in quota Lega per Marche Nord al Senato invece i papabili sono Antonio Baldelli fratello dell'assessore regionale Francesco e Giorgio Mocchi ma c'è anche appunto l'opzione di Carlo Ciccioli che per il momento sarebbe all'uninominale di Ancona alla Camera ma non è una posizione abbiamo detto di suo gradimento può darsi che ci siano dei cambiamenti veniamo alla viabilità nuovi cantieri per quanto riguarda Pesaro fanno gola 140 imprese chiedono di partecipare tante sono le aziende che hanno risposto alla chiamata del comune i lavori riguardano i collegamenti tra i quartieri di Torraccia e Vismara quasi un milione il fondo ha a disposizione l'azienda appaltatrice sarà individuata ai primi di settembre l'avvio dei lavori è previsto invece in autunno largo tre martiri ci siamo manca solo l'illuminazione con la fine dei lavori di asfaltatura la rotonda è praticamente ultimata si sono ormai conclusi i lavori di asfaltatura alla rotatoria di largo tre martiri l'intervento è costato 400 mila euro ma non è ancora del tutto terminato e qui invece abbiamo abbiamo mister Biancani che interviene per quanto riguarda la sua candidatura mancata e lui si rassegna e dice va bene così nessuna delusione sto bene dove sono Biancani mister preferenza e non fa una piega grazie comunque a chi ha fatto il mio nome dice insomma una compassata reazione di Biancani invece questo è un problema vero e proprio guardia medica pagamento per i turisti un'altra picconata per il servizio pubblico per il segretario provinciale della CGL Rossini si tratta di una deriva che gli enti locali e politici devono arginare si parla di una convenzione che è stata stipulata dall'associazione APA Hotels con lo studio di un libero professionista appunto un medico interviene in questo caso appunto il segretario Rossini che dice mi vengono in mente le vacanze nei paesi esotici dei turisti ricchi e facoltosi occidentali dove la povertà dei villaggi e il benessere dei resorti delle spiagge contrasta attivamente ha detto il sindacalista prima molesta una giovane passeggera poi aggredisce e insulta il capotreno il convoglio è stato fatto fermare a Pesaro dove il trentenne visibilmente alterato è stato arrestato abbiamo appunto questa notizia di cronaca che viene evidenziata anche dal Corriere Adriatico e poi sulla pagina di Urbino leggiamo invece un articolo che riguarda la festa del Duca che sbanca l'estate e si conferma come regina del turismo oltre 20.000 le persone che hanno partecipato alla manifestazione con spettacoli ed eventi di assoluta qualità e diamo ora un'occhiata anche allo sport dopo questa pausa ferragostana vediamo che è stato confermata la sponsorizzazione della Tecnopalast alla VIS il progetto Bosco c'è Enzo Camillini rinnova l'abbinamento importante sapere che c'è un presidente che investe sulla squadra e sugli impianti la VIS dunque sarà ancora sponsorizzata dalla Tecnoplast l'azienda leader in Italia nella produzione di finestre e infissi e per quanto riguarda invece il fano calcio vediamo che le prospettive sono buone nasce un fano solido frontone un ritiro perfetto sì dell'entroterra e in un paesino molto bello ai piedi del Catria il bilancio del team manager Stroni sulla prima parte della preparazione è più che positivo i più esperti stanno cercando di aiutare i giovani staff tecnico di primo ordine e il club ora deve decidere su due attaccanti che sono ambe due in prova Bamba che ha convinto l'Under 18 con il Genova e Pattaro insomma una decisione che deve essere presa la VL sceglie l'esperienza ecco Kravic ingaggiato il pivò serbo-canadese che in Italia aveva esordito con la Virtus Bologna nel suo curriculum anche due Champions vinte e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 al suo occhio alla notizia di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci